Inaugurati all'ospedale Mazzini di Teramo 16 nuovi posti di terapia intensiva Covid, 14 destinati alla rianimazione e 2 alla cardiologia, un investimento di 600 milioni di euro. Inoltre è in via di completamento la realizzazione di altri 21 posti di subintensiva Covid pronti per il mese di febbraio prossimo. Dopo mancheranno soltanto il pronto soccorso di Teramo, mentre oggi inaugureremo pure quello di Sant'Omero e rimarrà da completare altri stanno facendo i lavori, stiamo facendo i lavori per il 118 e quindi tutto questo andrà a completare l'iter della ristrutturazione Covid dell'azienda di Teramo. Attualmente quanti sono i ricoverati? Attualmente abbiamo tre ricoverati in terapia intensiva in tutta l'azienda e una ottantina nei tre ospedali. Grazie ai 16 nuovi posti di terapia intensiva e ai futuri 21 di subintensiva, l'ospedale Mazzini di Teramo si conferma una struttura Covid di riferimento per l'intera regione Abruzzo, un territorio che cerca di resistere con tutte le proprie forze alla pandemia. Il pregio di questi investimenti che abbiamo fatto, di questi lavori che abbiamo fatto per il potenziamento della rete Covid è che non si tratta di lavori e di opere che rimarranno chiuse o distanti dagli ospedali, in località estranea, ai classici luoghi di cura, ma resteranno un patrimonio costante per tutti i nosocomi, compreso quello di Teramo. Abbiamo utilizzato spazi e strutture che erano già all'interno dei nostri presidi ospedalieri e che li vanno quindi a potenziare in maniera permanente e duratura. Con queste opere la capacità di resistenza delle strutture sanitarie rispetto alla pressione della pandemia si fa più forte, la sicurezza all'interno dell'ospedale naturalmente sale perché i percorsi sono più separati, sono più protetti e questo unito alla vaccinazione di tutto il personale che è in corso e che è praticamente quasi finita, si stanno già facendo i richiami, le seconde vaccinazioni per mettere in sicurezza tutto il personale, ci rende ovviamente oggi più resistenti, più forti rispetto alla lotta al Covid.